Per Terre, Sapore e Vini, uno speciale da Torino e dal Piemonte per la quarta edizione dell'Erba Luce Day. Zucchero, direttore di Confagricoltura, per cui voi avete radunato i produttori piemontesi e torinesi di questo vino particolare, un vino che incontra sempre di più anche se la superficie è molto limitata. Abbiamo una superficie che è limitatissima, siamo a poco meno di 200 ettari su un totale regionale che supera i 40.000 ettari, quindi è veramente molto poco, però è una piccola perla, molto preziosa, è una superficie che negli ultimi anni sta aumentando, mentre tutte le altre denominazioni del torinese stanno diminuendo come superficie, l'Erba Luce sta aumentando, produzione che 2015-2016 più o meno si equivale, 2016 l'abbiamo degustato adesso, è un'annata eccellente direi dal punto di vista produttivo, ha tutte le caratteristiche per fare molto molto bene. L'Ais è sempre un punto di riferimento privilegiato per degustare i vini, per parlare di vini, per farli capire e conoscere un grande pubblico. Mauro Carosso è responsabile della didattica dell'Ais, questa sera 11 Erba Luce, tutti quanti notevoli. Sì, abbiamo in questa presentazione che si ripete da diversi anni, abbiamo voluto questa sera mettere in confronto gli 11 Erba Luce che aderiscono come aziende alla Confagricoltura e in una degustazione alla cieca. C'erano tutti i produttori, c'erano anche i tecnici, è stata una cosa molto bella, livello qualitativo molto alto di questo vino del nostro canavese che esprime un forte carattere, una invidiabile freschezza e sapidità, un vino di grande territorio, un vino che va comunicato di più perché è un bianco molto versatile che si appresta a diversi abbinamenti molto piacevoli ma soprattutto è un vino del nostro territorio e come tale va comunicato. Caterina Andorno, la nuova Presidente del Consorzio di Tutela Erba Luce Carema, per la prima volta una Presidente delle donne intanto. Esatto, dopo 50 anni una quota rosa e quindi sono molto orgogliosa e soprattutto una bella partenza, perché no? Mi fa enormemente piacere e soprattutto sono lusingata per il mio territorio e per le mie origini. Lei è una Presidente, lei è anche un'azienda, anche un agriturismo. Sì, noi come azienda agricola siamo conferitori alla Cantina della Serra ed ecco perché è il mio ruolo, quindi il Presidente della Cantina mi ha coinvolto in questo bellissimo progetto che da sogno è diventato realtà. Grazie a tutti.